Con Vittorio Magni, titolare della Magni Giro, parliamo di questi autogiro. Che cosa sono e come nascono e come funzionano? Ok, l'autogiro è nel via di mezzo tra l'aeroplano e l'elicottero. Praticamente l'elica dietro fa l'avanzamento e il rotore fa la portanza uguale all'elicottero. Come funziona per quanto riguarda la partenza? Quando riguarda la partenza, una volta fatta la prerotazione a terra, 70 metri decolla. L'atterraggio è molto più corto, come tocca a terra fa 4-5 metri, già fermo. Quanto costa uno di questi? Questo è il suo vento commerciale, signora Elisabetta. I mezzi hanno un costo che varia a seconda della tipologia. Quindi andiamo dal tandem che è di posto aperto, come questo che vediamo, che parte da circa 60.000 euro. Si va ad un altro tipo di autogiro, sempre in tandem, un pochino più comodo, confortevole, perché ha due grandi contenitori laterali per portarsi appresso un po' di bagagli, che costa circa 1.500 euro in più, saliamo poi a circa 70.000 euro nel modello M24 Orion, che è un po' il nostro best seller attuale, affiancato, cabinato, chiuso, che costa, come l'ho detto, circa 70.000 euro. Poi variazioni a secondo della configurazione che possono intervenire per quanto concerne l'avionica, quindi GPS, radio, transpondere e quant'altro. Grazie. Prego.